Coach, grande vittoria in rimonta della Pudine che dimostra una prestazione di carattere dopo una grande parte di gara in cui era stata in svantaggio però anche grande merito del palazzetto è riuscito ad arrivare a una vittoria veramente importante. Sì, partiamo dalla fine dai, che è la cosa più bella. Abbiamo fatto un ultimo quarto giocando con il doppio, forse il tripo della loro energia. Questo è sintomo di due o tre cose. La prima cosa è che questa è una squadra che non si è disunita, l'aveva già dimostrato contro Milano quando non ci riusciva nulla. Oggi non segnavamo mai da liberi onestamente, però non hanno mollato. Quindi prima di tutto questo. Secondo la condizione fisica, nonostante Pini non fosse disponibile, Ikanji avesse un virus intestinale che l'ha costretto anche all'intervallo a stare molto male e Carotti non potesse giocare quanto gli abbiamo concesso a livello di minuti di gioco. Nonostante tutto la squadra, i falli di Stefanelli è lunga e sta bene fisicamente negli effettivi a disposizione. Quindi questo è un altro segnale importante. La terza cosa è che è una squadra con grandissimi attributi e valori perché onestamente oggi ha infiammato per l'ennesima volta un palazzo che ci guardava tirare e non segnare mai e che poi alla fine ci ha visto difendere, girare la partita senza fronzoli tattici ma semplicemente con grande energia. Credo che l'approccio alla partita da parte nostra sia stato un po' attendista. Abbiamo sbagliato qualche tiro, ci siamo messi a pensare giochiamo questo, giochiamo quell'altro, chiamiamo questo gioco, chiamiamo quest'altro gioco e alla fine onestamente abbiamo perso ritmo e flusso e in difesa eravamo un po' un passo indietro. Avevamo fatto delle scelte precise su Ahmed che hanno pagato, su Ahmed scusate, che hanno pagato semplicemente nell'ultimo quarto. Quindi può darsi che anche il logorio dei primi tre quarti poi l'abbia portato ad avere meno lucidità alla fine. Tutto qui, andiamo avanti, si gioca ogni tre giorni e ci lecchiamo le ferite e pensiamo a Brindisi. Coach, un commento poi sulla prestazione di Johnson che è stata incredibile questa sera. Johnson è stato molto bravo, è stato molto vivo. Quello che gli abbiamo chiesto dall'inizio è di cercare, anche se alcune cose non è abituato a farle o non siamo ancora oliati, ma di giocare con energia perché questo lui ce l'ha. Oggi lui ha preso qualcosa tipo 17 rimbalzi, 12 in attacco. Abbiamo vinto di 20 a rimbalzo contro una squadra così atletica alla faccia di chi dice che siamo deboli a rimbalzo. Abbiamo fatto 15 assist a 10, tirato 15 volte più dal campo. Abbiamo segnato poco da tre punti, spesso da liberi. Questo ci ha fatto, ci ha un po' sconfortato, ecco, onestamente. Ma erano la maggior parte i tiri giusti, quei giocatori giusti. Domande? Mi chiedo se, Coach, sia stato più importante dal punto di vista dell'economia del risultato finale la differenza ai rimbalzi, 53-34, questo risveglio di Icchi che è un risveglio che avviene spesso, non negli ultimi minuti, comunque nel quarto quarto. Credo che abbia contato un po' tutto. Io credo che il turning point sia stato il fallo antisportivo che abbiamo ricevuto dopo un'ottima difesa e siamo partiti, abbiamo preso il fallo antisportivo e abbiamo capito che basta, che c'eravamo. Poi chiaramente quando segni così poco e non prendi i rimbalzi non hai una chance. Oggi siamo stati vivi a contatto a 10, 8, 12 perché prendevamo i rimbalzi, non segnando mai e non difendendo con la giusta garra perché con loro bisogna mettercela. Icchi è stato bravo perché ha aspettato la partita, ma oggi l'ha cambiata in difesa la partita, da noi in attacco perché ha voluto, eravamo un po' d'accordo ma lui me l'ha ricordato che l'ultimo quarto si sarebbe occupato lui di Ahmad e aveva ancora le energie, questo perché ha dei compagni che nei primi tre quarti fanno il lavoro insieme a lui, se lui avesse dovuto fare tutto dall'inizio avrebbe fatto la fine del suo collega, io credo l'ultimo quarto. Questo è successo anche ad Avellino, abbiamo una squadra con tante opzioni, lui a volte fin troppo aspetta e cerca di chiamare le cose per gli altri, però poi alla fine sa che lui è il nostro uomo, insomma, come lo sono tutti ma ognuno ha il suo compito. C'è una menzione in chiusura anche su Ambrosin. Ambrosin è stato bravo, di Ambrosin, come ha tirato da tre punti Ambrosin? Due su cinque, di Ambrosin a parte il tiro da tre punti che è sempre intorno al 40%, lui è incredibile, su questo onestamente ho apprezzato la difesa che ha messo su Imbrò, a un certo punto l'ha preso tutto campo, avevo chiesto di alzare la difesa, lui l'ha fatto, lui non è un difensore da missione speciale, ma oggi si è messo a disposizione, serviva quello, ha capito che per stare in campo non bastava segnare, ma doveva fare quello. Quindi lui, Carotti, si è sacrificato, non poteva giocare i minuti che ha giocato, credetemi. Speriamo che questa cosa non la pagheremo poi sabato o nelle prossime partite, ma lui aveva da giocare tre minuti alla volta per due o tre volte, invece ne ha giocati 18.